Vivi Città in sé rappresenta la gara che fa da apripista alla rinascita dell'attività motoria e dello sport. Sappiamo che per i cittadini non è mai stata una semplice corsa, ma rappresenta il simbolo dei sani stili di vita. Si è colorata nel corso per poi colorarsi di altre connotazioni, solidarietà, adesione al diritto all'informazione. Quindi quest'anno Vivi Città torna con la sua stupefacente bellezza. È bellissimo il fatto che si riprende a correre nella nostra città e lo si fa con la Vivi Città che è la Corsa dei Baresi. In questi anni abbiamo organizzato tante corse, ospitato tanti eventi podistici a Bari. Naturalmente nel cuore di tutti i baresi c'è innanzitutto la Vivi Città. Quindi l'appello ai baresi ora è iscrivetevi, riempiamo le piazze e le strade con i colori della Vivi Città per iniziare la stagione delle corse e delle manifestazioni sportive a Bari nella maniera migliore possibile. Una giornata di pace, ripeto, come ho già detto, non spetta a me anticipare a che cosa è legata la manifestazione di quest'anno perché Vivi Città ogni anno lega un tema il discorso della manifestazione. Credo come cittadino barese e italiano che quest'anno la Vivi Città lo dedichi alla pace e quindi mi auguro che in quella data il cessato e il fuoco sia già una storia vecchia.